E' stato un vero e proprio atto di sciacallaggio quello che si è perpetrato ieri sera a Fossombrone ai danni della famiglia Mazzoli già profondamente segnata per l'incendio della loro abitazione alcune settimane fa. Nella giornata di ieri quattro o più individui sono entrati nella loro casa disabitata dalla quale sono dovuti andarsene perché è resa inagibile per l'esteso incendio del 18 gennaio scorso a causa di un cortocircuito partito dal vano garage portando via impietosamente ciò che di prezioso i Mazzoli avevano lasciato lì in attesa di ripristinare la loro casa a due piani nel rione di Piancerreto in via Umbria. Il tutto poi è avvenuto in prima serata poco dopo le 18.45 sotto gli occhi dei vicini della popolosa strada con ben otto famiglie che si affacciano sul retro. Armati di quattro pesante mazze non curanti del rumore che procuravano i quattro malviventi dopo essersi impossessati degli oggetti preziosi che hanno trovato hanno iniziato a smurare la cassaforte ma non hanno fatto i conti con la pronta reazione del caseggiato che ha subito dato l'allarme e qualcuno, quattro o cinque persone scese anche per strada coraggiosamente ha tentato e anche inconsciamente di fermarli e di prendere i numeri di targa delle loro auto. E poi dopo sono riusciti ad andare dentro perché da qui è aperto, riesco, come hanno fatto non lo so e dopo siamo corsi tutti ma erano in tre la macchina, una macchina rubata. Una brutta esperienza per un quartiere che fino a poco tempo fa si considerava tranquillo e a misura d'uomo dove ci si conosce tutti e tutti si danno una mano. Affortunatamente però voi siete tutti abbastanza uniti, coesi. Siamo uniti e adesso specialmente dal mio primo evento siamo tutti un po' tesi e più attenti insomma ma il fatto che qui non ci siano luci magari, non lo so, io penso che non serva niente a nessuno di poterli fermare. Momenti concitati quelli del confronto tra gli abitanti e i ladri perché tutto può succedere, non sai mai chi ti trovi di fronte e infatti i presenti in quel momento ci riferiscono che uno dei ladri, vistosi braccato, ha anche minacciato apertamente con la pesante mazza in un italiano stentato uno degli intervenuti invitandolo a farsi sotto pur di guadagnarsi la fuga. Sul posto poi sono arrivati prontamente anche i carabinieri di Fossombrone con una pattuglia ma dei ladri, nessuna traccia, fuggiti con i mezzi con cui erano arrivati. Risultati poi rubati da un controllo delle targhe che gli abitanti con grande fermezza e prontezza di riflessi avevano preso e annotato e poi riferito ai carabinieri.